Leggero miglioramento della situazione Covid in città. Secondo gli ultimi dati forniti dal sindaco Michele Abaticchio, sul nostro territorio si contano 643 positivi, 594 a Bitonto, 28 a Mariotto e 21 a Palombaio. A far da contraltare alla flessione della curva dei contagi, però, i decessi registrati nelle ultime settimane. Il quadro epidemiologico resta preoccupante e da più parti si è evidenziata la necessità di assicurare un'attività di screening efficace ed operativa per la nostra comunità. Fermo ancora al palo, il progetto che avrebbe visto nella Casa della Musica la sede per consentire ai medici di famiglia di effettuare tamponi rapidi ai pazienti contatti stretti asintomatici. I kit promessi, solo 20 a fronte di 1.500 assistiti, non sono mai arrivati. Alla situazione si è interessato anche l'ex consigliere regionale Domenico Damascelli, che ha pungolato l'ASL di Bari per chiedere anche la realizzazione di un drive-thru cittadino per l'esecuzione gratuita di tamponi molecolari. Secondo il forzista, sarebbe utile per individuare con rapidità soggetti Covid, contrastando così in modo serio la diffusione del virus. L'ASL non perda più tempo, ha dichiarato Damascelli, e attivi subito questo servizio sanitario diagnostico a tutela del sacrosanto diritto alla salute dei cittadini. Sulla questione si è espresso anche il sindaco. Il comune di Bitonto ha messo a disposizione mezzi e strutture alla ASL per effettuare i tamponi in ogni forma, drive-in compreso, ha ricordato Abaticchio. Però vorrei anche se evidenziasse, proprio perché l'argomento è molto sensibile, che essere sede di drive-in per tamponi non significa assistere esclusivamente i cittadini residenti, esaltare le procedure, quindi anche i tempi, per la somministrazione del servizio da parte dell'ASL. Bitonto ha un presidio sanitario che serve per esempio anche Palo del Colle con una macchina per tamponi, peraltro, ha continuato. Palo del Colle, per esempio, è sede di drive-in che serve anche i cittadini di Bitonto. Bitonto ha messo altrettanto a disposizione i locali e i servizi logistici per i medici di famiglia.